la fortuna di riuso ride e la vang 1 contro 1 chiuso da Del Prato esperienza incredibile ottimo palma che riparte fortunato il palma da rimpalda palla Bernadette che la smista per Donnisman scambia con Bini di chat il tranta in avanti bellissimo per Mijla che la ridà e c'è il vantaggio del palma ragazzi bel fraseggio non toccano un pallone il palma ne tocca forse 8-9 non so quali saranno ma potrebbe venire un'azione di due lunghe e io per il Benediccia andate qua all'ultimo il finale di questa azione benissimo Mijla svelo di Benediccia perché tra la che gli dà il pallone e gol del palma finalmente in vantaggio in casa finalmente prendiamo i tre punti riprendiamo a presto Grazie.